una situazione fuori tema ma non troppo. C'è stata in questi giorni una vicenda che è riguardato la squadra del Napoli. Che cosa è successo? Che vi sono due giocatori positivi nel Napoli, le ASL, Napoli 1-2, vengono investite nel problema e le ASL fanno esattamente quello che prevede la legge, quello che prevede il Ministero della Salute, cioè mette in isolamento domiciliare i contatti stretti per fare i tamponi e per assicurarsi dopo i tempi di incubazione che siano negativi quelli controllati. Punto. Né più né meno. Qui interviene una complicazione. La Federazione Italiana Gioco Calcio fa un protocollo in deroga rispetto alle disposizioni del Ministero della Salute e della Regione relative ai positivi. E quindi si apre un piccolo polverone. La Juventus sulla base del protocollo, che è un atto privato, non conta niente dal punto di vista della legge e dal punto di vista della sanità. I giocatori dal punto di vista della sanità sono sottoposti alle stesse regole di tutti i cittadini italiani. E dunque il Napoli non parte perché è messo in quarantena dall'East. La Juventus, per bocca del Presidente della Juve, fa una dichiarazione penosa, imbarazzante. Siccome c'è un protocollo, noi andremo allo stadio questa notte. E qui hanno comunicato che andavano a fare una dura competizione con i raccatapalle. Il Presidente della Juve è un uomo appassionato, oltre che di palle e palloni, anche credo di filosofia. Mi permetto di ricordargli quello che diceva Schopenhauer. La gloria bisogna conquistarla. L'onore basta non perderlo. L'onore basta non perderlo. Se io mi fossi comportato così, sentirei di aver perduto il mio onore sportivo. vorrei domandarmi che cosa rimane in questi atteggiamenti dello spirito sportivo. Scusate, stiamo ancora parlando di sport o stiamo parlando di chissà cos'altro? Parliamo di sport, di valori sportivi, di lealtà sportiva, di competizione onesta, leale, di rispetto per gli avversari. Ma come ci si può ridurre alla meschinità di pretendere di vincere un incontro con gli antagonisti che sono messi in quarantena, non per volontà propria, ma da un asl, niente di meno. Perfino il commissario tecnico della Nazionale si è lasciato andare ad una esternazione che si poteva tranquillamente risparmiare. Con molta simpatia, ma ognuno deve fare il suo mestiere, sinceramente. Allora, aggiungo una domanda. Se ogni federazione sportiva decidesse di fare un protocollo in deroga, se la federazione e l'associazione degli albergatori, che sono un pezzo importante dell'economia dell'Italia, anche loro, non solo il pallone, chiedessero procedure in deroga, scusate a questo punto, sciogliamo il Ministero della Salute, sciogliamo le asle, ognuno faccia quello che diavolo vuole, perché questa sarebbe la conseguenza all'oggi. Allora io capisco tutti i problemi, capisco che il mondo del calcio, dello sport in generale, ma del calcio in particolare, coinvolge anche tanti grandi interessi economici, ma ci deve pure essere un punto limite, un punto limite oltre il quale lo sport non è più sport. Allora possiamo parlare di tutto, di investimenti, di economia, di diritti televisivi, però per cortesia non parlate più di valori sportivi, perché chi non ha lealtà e onore non può parlare di sport, deve parlare di altre cose.